Ehi, perché non mi fai vedere uno dei trucchi che ti ha insegnato il dottor Habernack? Ok. Ma hai sparito, guarda! Sei bravissimo! È una magia! Complimenti! Allora, tu non sei un coiote, vero? Possiamo tenerlo? Beh, non mi sembra che abbia una targhetta. Solo questa vecchia chiave. E serve ad aprire qualcosa, forse. Non lo so. Sta' attento, tesoro. Non sappiamo se è buono. Oswald. Il suo nome è Oswald. Azi. Sembra buono. Amore, non ti affezionare troppo. Potrebbe essere di qualcuno. Forse si è perso.